dunque l'obiettivo quindi di questa mattina è continuando con ciò che abbiamo introdotto la settimana scorsa imparare un pochino meglio come gestire questa connessione al database il progetto sbagliato in cui avevamo visto che qualunque tipo di accesso al database richiedeva questi tre punti centrali diciamo ciò che ci interessa è il punto 5 vogliamo chiedere qualcosa al database e quindi elaborarne il risultato per poter fare questo è necessario che il database esegua l'interrogazione e quindi gli mandiamo una query attraverso un oggetto di tipo statement riprendiamo alcuni punti che avevamo saltato e poi cerchiamo di chiederci come il codice relativo accesso al database si debba integrare all'interno della nostra applicazione allora al primo giro ho saltato alcuni dettagli ad esempio sul fatto che l'interrogazione in SQL per noi è una stringa quindi aperte virgolette select asterisco from tabella eccetera eccetera ok e qualora la stringa cioè la query da eseguire sia una query di tipo select il metodo da chiamare si chiama execute query è un metodo dell'oggetto statement ok statement punto execute query e gli passiamo la query questo metodo execute query è pensato solamente per istruzioni di tipo select che saranno il 99% di quello che useremo mai perché in questo corso non andiamo a modificare database eccetera perché select perché la select per definizione ritorna una tabella calcola e ritorna una tabella con tot rig e tot colonne a seconda dell'interrogazione a seconda del contenuto del database e quindi il metodo execute query ritorna un risultato di tipo result set attraverso il quale abbiamo visto con il meccanismo del cursore possiamo andare a estrarre i dati che ci interessano in realtà sull'oggetto statement ci sono altri metodi che si chiamano execute update o execute e basta execute update è quello che viene utilizzato quando dobbiamo modificare in qualche modo il database il contenuto del database e quindi questo serve per query tipo insert, update o delete quindi update non è solo per l'update SQL ma anche per l'insert SQL e per il delete SQL in questo caso io sto modificando dei dati quindi non ho un result set di ritorno ho semplicemente un valore intero questo valore intero di ritorno mi dice quante righe del database sono state modificate quindi se ho fatto una insert di un dato mi aspetto che questo valore di ritorno sia 1 se ho cancellato un 100 record mi aspetto che questo valore di ritorno sia 100 e così via se è 0 vuol dire che non ha fatto nulla e quindi magari non c'erano elementi nel caso di un delete che verificassero la condizione di ricerca in casi più generali c'è anche un metodo execute che è ancora, diciamo così, più stupido a cui possiamo passare a qualunque tipo di query lui ritorna semplicemente un booleano che dice è andata a buon fine o non è andata a buon fine li cito per completezza ma non li useremo quasi mai se no magari chi farà la tesina su queste cose dovrà bisogno anche di aggiornare i dati ma per noi quasi sempre il database sarà in sola lettura per il tipo di ritorno che faremo qua l'altra cosa invece che dobbiamo approfondire un po' è la costruzione delle query che contengono dei parametri cioè immaginate che l'utente voglia a un certo punto ricercare tutti i prodotti di un certo tipo quindi siamo un sito di e-commerce e il nostro utente vuole tutti le caffettiere allora dovrò costruire una query in cui c'è una certa clausola where che contiene l'uguaglianza che è il nome del codice del prodotto della categoria di prodotto e apice, caffettiera, chiuso apice questo è il modo di costruire l'SQL, la vediamo con una stringa abbiamo detto quindi in questa stringa ci dovrà essere where code uguale tra apice, caffettiere come faccio a metterci i caffettieri lì dentro? eh, vabbè, come vi dite, è facile se questo user code è qualche cosa che mi ha fornito l'utente magari l'ho presa da una textarea, da un textfield lo concateno lì dentro e quindi costruisco una query parametrica cioè una query che non è sempre la stessa, non è una stringa costante ma è una stringa che costruisco andando a inserire in gergo diremmo interpolare nei punti giusti un valore che proviene dall'utente, che ha specificato l'utente ok? quindi questo possiamo concatenarla col più delle stringhe oppure con un format, è uguale a un certo punto costruisco una stringa dentro la quale inserisco un valore utente voi mi dite, ma perché stai facendo tutta sta pippa su una cosa banale? perché questa è la cosa da non fare mai neanche con una pistola puntata alla testa perché? perché concatenare un pezzo di stringa proveniente dall'utente all'interno di una stringa SQL che verrà poi presa dal nostro programma mandata al database con le credenziali che il nostro programma ha per accedere al database permette all'utente di distruggerci tutto quindi questa cosa qua impariamolo che le stringe SQL non si concatenano mai e adesso cerchiamo di capire perché e quindi la soluzione che impareremo sarà quella di usare un altro tipo di statement che non richiede questo tipo di lavoro e non ha questo tipo di problemi allora andiamo a vedere qual è la soluzione quindi vi ho detto già la volta scorsa adesso vi faccio l'esempio con l'oggetto statement ma sappiate che poi non useremo mai e qual è il problema? questo è un altro esempio dello stesso tipo immaginate un'interfaccia semplicissima voglio estrarre magari un utente un sistema che richiede può lavorare con più utenti chiedo al mio utente qual è il suo nome qual è il suo id qual è il suo login e lui me lo scrive in una casella di testo sulla quale faccio un gettext e poi faccio una innocentissima query dammi tutti i valori di tutte le informazioni perdono su questo singolo utente quindi from users avrò una tabella con tutti gli utenti where username uguale lui ci chiamerà Pippo e gli scrivo Pippo allora quali sono i problemi? immaginate cosa succede se il nostro utente persona non particolarmente simpatica al posto di scrivere Pippo come nome proprio scrive questa cosa qua che è qua riportata in blu apice punto e virgola spazio delete asterisco from users punto e virgola trattino trattino cosa succede? che il nostro programma prende quello come se fosse il suo nome e lo concatena dentro la stringa allora il risultato qual è? se io prendo questa stringa e al posto di user ci metto questo frammento di testo ciò che salta fuori è una query velenosa select asterisco from users where username uguale aperto e chiuso apice punto e virgola delete asterisco from users trattino trattino apice allora qual è sta roba? qui ho messo ho chiuso un apice il primo apice aperto era della mia stringa qui della mia query l'apice viene fittiziamente chiuso da questo apice che l'utente ha inserito e poi ci ha messo un punto e virgola quindi questa prima query di solito eseguirà verrà eseguita correttamente restituendo zero risultati ma subito dopo il database esegue quest'altra query che mi azzerra la tabella utenti questo trattino trattino in fondo serve per evitare che l'apice questo apice qua in fondo che era qua nella stringa lasciato libero darebbe errore di sintassi perché avrei punto e virgola apice e quell'apice che si sta a fare allora trattino trattino è il simbolo di commento in SQL quindi questo apice viene commentato l'effetto è quello di trasformare una query innocente dammi i dati dell'utente in una query velenosa distruggi tutti i dati che è su tutti gli utenti perché? è perché noi abbiamo trattato dei dati dell'utente fidandocene e componendo una query semplicemente concatenando dei pezzi che contenevano dei pezzi che vengono interpretati con le regole della sintassi SQL quindi cosa posso fare per evitare questo problema? voi mi dite sì però l'utente deve essere ben malato per poter scrivere una cosa di questo genere e beh dipende qual è l'interesse che avete in gioco nel senso che se volete rubare informazioni o cancellare danneggiare qualcuno sapete che dovete semplicemente capire che tipo di query fare come si chiama come si chiama la tabella perché se il nostro utente smaliziato non sa che la tabella si chiama users non fa niente non può far danno però sai con tanto tempo tanta pazienza il nome della tabella lo trovi prima o poi no? si chiama users utente utenti e prima o poi lo trovi quindi non diamo per scontato che ma no ma tanto in realtà non succede no allora cosa dovremmo fare? dovremmo evitare che questo ad esempio questo apice venisse interpretato come la chiusura dell'apice precedente e quindi ad esempio trasformare se c'è un apice nell'acquiri dell'utente in un barra apice backslash apice no? che è il modo per fare l'escaping dell'apice farlo trattare come un apice dentro la stringa e non come la chiusura della stringa stessa però è solo l'inizio perché poi cosa capita se l'utente ci mette un a capo un a capo dentro la stringa dentro una una query SQL è lecito o no? può generare un sintax su una riga e eseguire quella dopo cioè dovrei sanitizzare rendere non più pericolosi tutti i possibili caratteri o tutte le possibili combinazioni di caratteri che all'utente potrebbero mai venire in mente e quindi è sempre una gara a chi immaginarsi quali tipi di invenzioni potranno avere i miei utenti è una gara che perdo in partenza allora la l'altra soluzione è quella di cambiare radicalmente approccio decidiamo che i dati che arrivano dagli utenti non devono essere mai non ci dobbiamo mai fidare e quindi vanno sempre trattati con cautela devono sempre essere gestiti ad esempio nel caso delle query mai con la concatenazione esplicita qui ci sono un paio di foto carine questo qua era un tizio che sperava di fregare gli autovelox dicendo se mi prendono una foto quando fanno il riconoscimento dei caratteri della foto io gli seguo il database delle targhe ma non credo che funzioni così come anche questa vignetta della signora che chiama il figlio si chiama Robert Apice punto e virgola drop table students così quando prendono un brutto voto a scuola quando provano a inserire il nome proprio chiamato così di battesimo vabbè di scherzi su queste cose ce ne sono parecchi allora qual è la soluzione che ci offre JDBC è quella di separare la definizione della query dall'inserimento di parametri e far fare questo lavoro direttamente al database dicendo questa è la query e questi sono i dati da inserire in quei punti quindi non siamo noi a fare la concatenazione delle stringhe nessuno la farà mai ricordate che parlavo di navicella lo statement che va dall'applicazione al database ecco questa navicella viaggiano anziché viaggiare una sola stringa in cui noi abbiamo provveduto a mettere dentro i parametri dell'utente i dati provenienti dell'utente viaggiano due cose la query e i parametri a parte attraverso un oggetto che non è uno statement ma è il cosiddetto prepare statement allora cosa è prepare statement in realtà non è più difficile anzi rischia di essere più semplice da usare rispetto a uno statement base quando noi definiamo un oggetto di tipo prepare statement lo creiamo non con il metodo create statement che usavamo prima ma con un metodo che si chiama prepare statement a cui passiamo un template di query il modello della query che vogliamo un template di query il modello di query non è altro che una query all'interno della quale ci sono dei caratteri speciali cioè dei punti interrogativi dice guarda la query che voglio fare io è di questo tipo dove qui e qui dovranno essere inseriti dei valori che ti dico dopo ok quindi metto dei segni a posto dei placeholder per dire per indicare i punti in cui dovranno essere inseriti dei valori parlo di valori quindi nel posto di quel punto interrogativo non ci potrà mai essere un punto e virgola interpretato come separato le istruzioni non ci potrà mai essere la parola select la parola delete se ci fossero verrebbero interpretate come valori appunto come string che casualmente contengono s e l e c t ma non come sintassi della query la sintassi è già definita qua la definisco nel template quindi qualunque valore ci metto giocherà sempre il ruolo di appunto valore e non cambierà mai l'interpretazione di questa query e come inietto i valori al loro posto con dei metodi setter sullo statement quindi se al posto del primo valore ci devo mettere un numero reale imposta il prezzo a 3,77 euro avrò statement punto set float e qui questo setter ha due parametri il primo parametro è la la posizione del placeholder quindi uno sta per il primo punto interrogativo due sta per il secondo punto interrogativo che incontriamo e il secondo parametro del setter è il valore da settare qui questo esempio ci fa vedere che lo fa all'interno di un ciclo perché deve fare aggiornamenti di più valori ma questo è indifferente ok quindi noi separiamo la definizione della query generica il template è quello identifichiamo i punti dove dovranno essere inseriti i parametri dell'utente i valori provenienti dall'utente o comunque in generale i valori variabili perché un primo passo è non fidarsi dell'utente il secondo passo è non fidarsi comunque di un valore che mi arriva da un'altra parte del programma che magari potrei aver creato in modo errato quindi usiamo sempre questo metodo e quindi ogni volta che abbiamo una query che contiene dei parametri dei valori variabili che arrivano dall'utente o no a questo punto abbiamo trovato un metodo generale e non ci interessa più la trattiamo sempre in questo modo e quindi definisco la query imposto i parametri specifici e poi metodo execute per eseguire effettivamente quella query execute o execute query in questo caso non è un select un update nel nostro caso potrebbe essere un execute query se facciamo una select che a questo punto non ha più bisogno della stringa come parametro normalmente l'execute query sull'oggetto statement voleva la stringa qual è la query da eseguire qui non ce l'ho perché la query l'ho già definita sopra poi ho definito i parametri e alla fine quando è ora di eseguirla sa già tutto quindi non ha bisogno di altri parametri ok questo è il metodo che useremo sempre in questo caso se anche la stringa contenesse i caratteri strani inseriti dall'utente tipo questa stringa qua no? cattiva di prima sarebbe dentro un oggetto string che noi passeremmo come set statement punto set string di sta roba set string 1 no? la posizione 1 di questa roba al database arriverebbe la query con un punto interrogativo al database per via traversa arriva un'altra stringa dicendo questa è una stringa il valore da mettere al primo posto il database fa l'analisi della query l'ottimizzazione della query tutto il lavoro che fa lui per definire il piano di esecuzione di ogni query tenendo il punto interrogativo ancora quindi senza ancora vedere i dati e poi quando ha il piano di esecuzione a un certo punto prende quella stringa che la usa per fare i confronti ma mai e poi mai userà diciamo così l'analizzatore SQL per capire cosa c'è in quella stringa è un dato che usa al momento giusto ma non interpreterà mai nessun carattere di quel dato come se fosse un pezzo di una stringa di una query quindi fa il database fa il lavoro per noi di tenere separati e evitare ogni problema l'altro piccolo vantaggio è che se dovessimo rieseguire questa query tante e tante volte potremmo usare lo stesso oggetto prepare misstainment settandogli ogni volta dei valori diversi ed eseguendo la query la stessa query con parametri diversi e questo ci dà anche un vantaggio in termini di tempo di esecuzione perché il database non deve vedere ogni volta una query leggerla parsificarla ottimizzarla e poi eseguirla e poi un attimo dopo gli arriva un'altra query che però è la stessa ma lui non lo sa allora la rileggia la ottimizza eccetera e la risegue riusando un prepare statement il database sa già che è esattamente la stessa di prima cambiano solo i valori quindi molta della sua elaborazione la riusa si mantiene il piano di esecuzione dei prepare statement che ha già visto in passato ma questo è un aspetto di efficienza su cui ritorneremo tra poco tra qualche settimana quando avremo a che fare con dei dati con dei database che richiedono effettivamente questo tipo di efficienza ok a questo punto veniamo all'altra domanda si il nostro programmino che fa la singola query lo sappiamo fare ma se ci dobbiamo mettere un programma più grande ad esempio con interfaccia grafica java fx un controller un model dove vanno a finire gli accessi al database li mettiamo dentro il model li mettiamo dentro il controller allora noi cercheremo sempre di mantenere come sempre una certa separazione di ruoli e per questo per rispondere a questa domanda qual è il posto giusto in cui mettere le query l'accesso al database ci rifacciamo come sempre un pattern di programmazione che ci permetta che permetta al modello di lavorare senza conoscere i dettagli del database il database è brutto è una roba di basso livello cioè no lui dentro è furbissimo intelligentissimo ottimizzatissimo ma la sua interfaccia è fatta a stringhe non è fatta a oggetti allora noi abbiamo l'oggetto utente l'oggetto user in java fatto bello con i get resetter less code liquors tutto quello che volete ma poi al database va una stringa se devo inserire un nuovo utente non posso fare insert dell'oggetto utente devo comporre una stringa un pezzo per volta values nome cognome matricola eccetera eccetera sbrodolarlo in termini di stringa idem quando faccio una query mi ritornano le tabelle e in ogni campo di questa tabella c'è un numero una stringa e poi devo io mettere insieme i pezzi di un oggetto allora non vogliamo scendere di livello con il tipo di programmazione teniamo separati quelli che sono le operazioni di basso livello di eccesso al database e forniamo diciamo una piccola strazione di quello che potrebbe essere il database con un'interfaccia di oggetti quindi questo modo di programmazione si chiama data access object DAO li chiameremo sempre DAO questo tipo di oggetti che separano l'accesso al database in due livelli il livello che qui è chiamato client nel pattern lo chiamano client cioè la classe che ha bisogno di accedere al database per noi chi è la classe che ha bisogno di accedere al database il modello il model del nostro programma il controller non ne può non ne deve fregar di meno del fatto che ci sia o non ci sia un database è il model che ha bisogno dei dati su cui lavorare quindi il modello è una classe che a livello di applicazione che ha bisogno di accedere al database nella nostra classe modello non metteremo nessun dettaglio relativo al database stesso però così come abbiamo fatto attenzione nel model a non mettere nulla che fosse rilevante all'interfaccia grafica infatti eravamo capaci anche di eseguire il model senza interfaccia grafica e nello stesso modo identicamente il model non dovrà sapere nulla di JDBC tutta la conoscenza di come è fatto il database come è strutturato quali sono le tabelle come si scrivono le query la mettiamo in una classe a parte data access object un oggetto per fare l'accesso ai dati nome triste ma vuol dire qualche spiega a ciò che serve allora dentro una classe DAO un oggetto DAO chiameremo non so utente DAO lo chiameremo no con il nome di una classe in cui ci metto la sigletta DAO così mi ricordo qual è il suo ruolo viene incapsulato tutto il codice di JDBC e quindi quando io devo avere interrogato il database per sapere i dettagli di un utente userò la classe utente DAO che avrà un metodo a cui passo magari l'ID dell'utente e lui mi restituisce un oggetto utente un oggetto Java che ha dentro tutte le informazioni la costruzione dell'oggetto se la fa il metodo DAO e quindi questo classe client il nostro model e il DAO che fa le query si parlano scambiandosi oggetti oggetti che in gergo vengono chiamati oggetti di trasferimento oggetti di trasferimento dati a seconda di dove legge la spiegazione di questo pattern di TO o TO che per noi sono semplicemente gli oggetti base gli oggetti su cui si basa il modello se il modello ha una lista di oggetti utente ecco questo oggetto utente è oltre che una parte del dato che il modello usa per memorizzare i dati ma può anche essere il veicolo di trasferimento dei dati avanti e indietro tra DAO e model quindi DAO e model sono in due mondi separati ma condividono gli oggetti di modello gli oggetti che costituano i nostri oggetti che abbiamo creato per descrivere il modello mentre tutto il resto il driver manager il result set prepostermente queste cose qua del mondo JDBC faremo attenzione affinché siano confinati dentro il DAO sempre e solamente quindi il nostro pattern sarà così io ho il model che a un certo punto deve fare una query quindi uso un metodo del DAO che ne so creami un nuovo oggetto leggi un oggetto aggiorna cancella quindi io qua vedo delle primitive di alto livello create read update delete sono le quattro operazioni di base che si possono fare su un oggetto a volte si usa la sigla CRUD CRUD ho fatto un CRUD cosa vuol dire? boh non è che vuol dire semplicemente che ho definito i quattro metodi fondamentali per un certo tipo di oggetto quindi il DAO per l'utente fornirà i metodi CRUD per l'utente adesso in realtà io ho una personalmente ho sempre una certa allergia per il metodo delete e quando posso non lo implemento mai o non lo penso mai quindi per me è un CRUD non è un CRUD perché cancellare i dati nel 2018 tranne gli account facebook che adesso è di moda cancellare ma non conviene mai se anche tu devi cancellare un utente dal tuo database perché non ti serve più meglio avere una colonna in più che ti dica attivo o non attivo utente attivo utente non attivo e quindi in realtà lo rendo non più attivo e non salterà più fuori nessuna query perché magari gli ho fatto una vista sopra che li esclude ma quei dati lì li ho ancora tu dici ma cosa ti serve se tanto l'utente se ne è andato sì sì però alla fine dell'anno il mio responsabile mi dice senti ma mi fai le statistiche sugli utenti e gli devo dire ma guarda tutti quelli che ci hanno lasciato in quest'anno non ho più niente non ho più dati li ho cancellati non ci faccio una gran bella figura è sempre meglio i dati tenerli sono un valore sempre anche se operativamente non servono possono sempre servire retrospettivamente così come quando l'utente il giorno dopo ti telefona mi sono cancellato per sbaglio vabbè tu dici non c'è problema rimetto a posto la casellina la vita vera purtroppo porta a questi casi allora abbiamo detto il nostro oggetto DAO offre dei metodi che ci permettono di creare distruggere quello che vediamo oggetti li pensiamo come oggetti sapendo che quando ho fatto la creazione di un oggetto questo rimarrà vivo per sempre e poi il DAO poverino per farlo rimarrere vivo usa un driver manager per fare delle query e poi lavora con questi oggetti attraverso il result set il lavoro JDBC che abbiamo cominciato a conoscere ma tutto questo mondo JDBC c'è tutta la colonna di destra il mondo JDBC non viene mai a toccare il client il client per passare i dati o per ricevere dei valori di ritorno lo fa sempre attraverso questi oggetti di trasferimento quindi noi nel nostro programma avremo sempre la classe control la classe model una serie di classettine di servizio del model sono i vari bins i vari oggetti semplici che contengono i dati l'israel model per creare le sue collection per creare le sue liste l'israel DAO per scambiare informazioni poi avremo una classe DAO che invece fare una o più classi DAO che invece fanno le query quindi questa classe DAO cosa sono? sono dei metodi di servizio quindi normalmente una classe DAO non ha stato proprio non memorizza i dati lei è semplicemente gestisce il passaggio di dati dal database al model o dal model al database non ha stato persistente non ha variabili di stato dentro questa classe quindi sono questi DAO sono istanze usa e getta creo l'istanza chiamo due metodi e poi non mi serve più perché tanto in quell'istanza non ci sono informazioni permanenti se abbiamo database complicati potremmo pensare di fare più classi DAO una per ogni tabella del database ad esempio in modo che ogni classe gestisca solamente oggetti di un certo tipo se il database se il database non è tanto complicato facciamo un DAO unico in cui ci mettiamo dentro tutto quella è solamente una questione di gestibilità della classe normalmente dicevamo che il DAO offre i metodi crude di accesso banale agli oggetti ma eventualmente potrebbe anche offrire dei metodi più evoluti perché il crude lavora un oggetto per volta ma se io voglio chiedere database dimmi tutti gli utenti che negli ultimi sei mesi hanno fatto almeno quattro transazioni hai voglia di farlo col crude dove chiedere uno per volta i dati degli utenti uno per volta i dati delle transazioni e a mano in Java con i miei cicli annidati controllarli quando in SQL scrivere quella query è una sciocchezza allora ho dei metodi di ricerca tipicamente anche più evoluti che mi danno già il risultato di una certa elaborazione che faccio a fare il database cioè non uso il database semplicemente per memorizzare il dato e poi tutto il lavoro di analisi di confronto ricerca lo faccio io nel programma no se il database è capace già a farlo a me anziché ritornare mille utenti centomila transazioni e dovermi incrociare mi ritorno solamente quei 27 utenti che rispettano un certo criterio sulle transazioni fatte negli ultimi mesi e tutto il lavoro di confronto se l'ha fatto il database è il suo mestiere lo fa sicuramente meglio di me e alla fine ho trasferito meno dati avanti e indietro qui ci avrò guadagnato in prestazioni in semplicità in errori perché una volta che l'ho debaggata va bene debaggare un triplo ciclo di dato richiede un attimino di più di attenzione o di difficoltà quindi abbiamo queste classi che fanno questo lavoro quindi i metodi cruel che faccia hanno allora immaginiamo un'ipotetica classe utente DAO user DAO che comunicherà che metterà al servizio del model dei metodi per poter interagire con oggetti user allora un metodo di ricerca quello di read possiamo chiamarlo read qui mi è suggerito di chiamarlo find dammi un utente ok a partire da cosa ad esempio a partire dal suo id se ha un id numerico una matricola ti do l'id mi restituisci un nuovo oggetto user corrispondente a quell'id questo è un modo questo modo il DAO crea un oggetto user fa la query cerca una tabella user o users o utenti chissà come si chiamerà la tabella non ci interessa al model non interessa il model ragiona in termini di oggetti il DAO farà nell'implementazione di questo metodo find la ricerca se in quella tabella utenti c'è un utente con quell'id se c'è crea un oggetto di tipo user e dentro l'oggetto di tipo user riempie i vari campi nome cognome l'id vabbè ovviamente ci sarà ma ce l'ho già e le altre informazioni in questo modo l'oggetto user viene creato dal DAO dal metodo find un altro modo invece è quello di passare al find già un oggetto user che magari è stato creato dal model e in questo modo il DAO deve semplicemente riempire i dati set nome set cognome set data di nascita su quell'oggetto U che è già stato passato in questo modo dipende un po' dove vogliamo fare la new di quell'oggetto se vogliamo che sia il DAO creare l'oggetto o se vogliamo che magari quell'oggetto per qualche motivo che magari capiremo più avanti conviene che il modello abbia già quell'oggetto dipende un po' come lo vogliamo implementare poi c'è anche la via mista in cui passo al DAO un oggetto parzialmente inizializzato cioè un oggetto i cui campi sono tutti vuoti perché non li so tranne il campo ID che contiene la matricola da cercare la chiave primaria allora a questo punto il metodo find userà il campo ID dell'utente U farà la query e riempirà gli altri campi quindi io ho un oggetto di cui sono solo un pezzo sono solo la matricola lo passo al metodo find e mi compila tutti gli altri dati di quell'oggetto lì sono modi diversi di usarlo dipende un po' cosa ci sia più comodo il più semplice è il primo ti do l'ID e mi istituisce l'oggetto è più semplice da capire almeno pre-requisiti però questo presuppone presuppone che tu sappia esattamente già l'ID l'identificativo numerico dell'utente e se non lo sai quando l'utente si identifica quando voi fate login su un sito non scrivete il vostro identificativo numerico la chiave primaria che il database ha creato non lo sapete date ne so la mail e la password login e la password allora noi potremmo avere un metodo find di questo genere trovami l'utente nella tabella utenti che ha questa mail e trovamelo solo se la password corrisponde quindi ti do dei dati che non sono dati corrispondenti alla chiave primaria che mi identifica esattamente un record ma ti do dei dati dai quali sia però possibile risalire univocamente all'utente cioè non possono esistere due utenti che sono registrati con la stessa mail quindi email magari non è la chiave primaria di quel database perché non è l'ID ma è unica è univoca e quindi è sufficiente per poter identificare un unico user ammesso che ci sia ammesso A che ci sia e B che la password corrisponda se invece il metodo di ricerca deve partire da conoscenze sull'utente che non sono univoche immaginiamo di avere solamente il nome Fulvio e non la mail con cui mi sono registrato è possibile che con quel nome ci siano più record registrati quindi io posso comunque chiedere al DAO che chieda al database dimmi quali sono tutti gli utenti che si chiamano in questo modo ma mi dovrò aspettare che come valore di ritorno avrò una collection una lista di nomi una lista di user che ovviamente avranno tutti questo name ma email diverse e id diversi e poi in qualche modo dovrò trovare quello giusto vabbè quindi è la differenza tra metodi che chiamo find dammene uno a metodi che possiamo chiamare list dammi l'elenco completo oppure search fammi una ricerca sulla base di questi criteri search by user name search user by name o list user by name insomma l'importante non è il nome che diamo al metodo ma il significato che gli attribuiamo quindi se vogliamo le due grosse categorie sono trovo un oggetto perché se c'è è unico o magari non c'è l'altra possibilità è trovo un insieme di oggetti che rispettino dei criteri il criterio più semplice è dammeli tutti find find all search all oppure verifica con certi filtra con certi criteri quindi questi sono i tipi di metodi che metteremo sempre poi possono esserci altri metodi per completare il crude per creare oggetti quindi ti passo questo è più facile ti passo un oggetto user tu me lo crei nel database oppure update ti passo un oggetto user tu mi cerchi nel database il record che ha quell'id di questo oggetto user e cambi gli altri campi perché aggiornando il database rispetto al valore di questo user che ne so io prima ho fatto un find di un utente mi ha dato l'oggetto user di questo oggetto user ho cambiato che so le preferenze la lingua con cui lui preferisce interfacciarsi il sistema e poi faccio un update in cui gli passo l'oggetto user che avrà tutti i campi uguali tranne la lingua e allora il DAO dovrà fare una query tipo update in SQL che aggiorna la lingua dove l'utente dove l'id è uguale a quello di prima però questi come dicevo non dovendo noi modificare quasi mai i database sono metodi che useremo poco ma comunque dentro il DAO allora proviamo a mettere un pochino in pratica queste idee prendendo spunto da qualche database esistente io prendo il sito del corso dai vabbè oggi il wifi non mi aiuta ma farò stesso io per fortuna ce l'ho salvato sul sito del corso c'è un database che si chiama tra i tanti che sono elencati che si chiama iscritti ai corsi se voi siete più fortunati di me con la rete nella sezione materiale dove c'è il paragrafetto datasets uno il primo il secondo si chiama iscritti ai corsi e datasets iscritti ai corsi e se lo scaricate scarica un file zip dentro questo file zip ci sono un file sql e un disegno un'immagine ok allora scompattiamo questo file io ce l'ho già aperto qua in questa cartella come facciamo a importare un database se io vedo questo file sql contiene i comandi in sql per creare le tabelle e i sericidi dati dentro cioè il modo normale per trasferire un database da una macchina a un'altra è esportare il database sotto forma dei comandi sql che servono per ricostruirlo uguale dall'altra parte quindi quando vi do un dataset alla fine vi darò un file sql che noi dobbiamo far eseguire il database quindi ad esempio in id sql facciamo su un comando carica file sql o direttamente esegui file sql facciamo carica dal quale andiamo a leggere a chiedere di leggere scritti i corsi il file sql cosa fa? lui apre una finestra in cui c'è uguale al tipo della finestra query è come se noi avessimo scritto a mano delle sql semplicemente le abbiamo lette da file quando facciamo run lui eseguirà queste query e alla fine questo warning lo dà sempre quindi non preoccupiamocene e ha eseguito i comandi contenuti dentro quel file l'effetto è stato di creare un nuovo database la prima riga qua diceva create database iscritti ai corsi e quindi me lo trovo qua nell'elenco dei database installati su questa macchina in realtà non me lo trovo subito perché id non ha capito non lo sa non ha capito da sola perché ha preso questo file e l'ha mandato al database non ha capito che è stato creato un database nuovo per farlo comparire dobbiamo fare un aggiorna un rinfresca qua e vedete se fate la rinfresca è comparso iscritto ai corsi quindi ci hanno dato questo database ci hanno detto facci un programmino sopra come ha fatto questo database non lo so lo scopriamo adesso contiene tre tabelle che si chiamano corso iscrizione studente la struttura di queste tabelle io ci ho fatto il disegnino è fatta così questo disegnino se vi interessa c'è vedere il database in questo modo vi potete scaricare il MySQL Workbench che è l'interfaccia grafica dal sito dell'Oracle che se importate un database vi permette di vederlo in questo modo se no c'è anche un'estensione per Eclipse che fa una cosa simile si chiama DBVER DB e AVER vabbè gli disegnini ce li abbiamo già e si dice che io ho queste tre tabelle la tabella studente che contiene matricola, cognome e nome corso di studi la tabella corso codice di insegnamento numero di crediti nome del corso periodo didattico in cui si tiene e poi una tabella intermedia che gestisce la relazione molti a molti di chi è scritto chi questa è la tipica tabella di collegamento che deriva dall'implementazione a livello logico di una relazione molti a molti a livello concettuale e infatti vedete che è fatta solo di chiavi esterne non ha dati che non siano chiavi esterne per tenere in collegamento i due mondi allora questa è la struttura del database noi la possiamo vedere anche guardando le tabelle la stessa cosa corso iscrizione studente dove dentro iscrizione sono indicate come chiavi esterne queste relazioni questo è già un database piccolissimo tra virgolette progettato bene secondo le forme normali con tutte le relazioni chiave primarie eccetera quello di progettare il database bene non è un problema di questo corso quindi noi andiamo per scontato che lo siano allora immaginiamo anche solo di voler fare un piccolo programmino che ci permetta di vedere ricercare l'elenco dei corsi dico corsi non studenti perché sono di meno questi sono i corsi del percorso di gestionale ok quindi avere un'interfaccia in cui io possa indicare dimmi il periodo didattico 1 o 2 e ti stampo i corsi del periodo didattico 1 o 2 semplice semplice poi da lì possiamo crescere ok allora per farlo possiamo creare un progettino java effects che chiamiamo elenco corsi it polito tdp corsi fxml corsi corsi controller e quindi ci facciamo una cosa molto semplice creando un'interfaccia grafica con solamente due campi il periodo didattico da inserire e una textarea per poter corsi quindi ci metto dentro una vbox nel centro dentro la vbox si metto un hbox e una textarea dentro la vbox si mettono una label poi una textfield e infine un bottone poi liberiamo il layout in modo che questa cosa qua si impagini in modo decente e qui la label e il bottone sono uno contrario dell'altro ok e sono diciamo semestre questo campo qua può anche essere più piccolo casella di testo e il bottone si chiama cerca quindi abbiamo una casella di testo che chiamiamo vado nel code txt semestre e un botto una textarea che chiamo txt log e un bottone cerca che chiamo no ho il pagliato txt semestre lo metto sulla casella di testo ovviamente non sul bottone e il bottone avrò un handle cerca il metodo 448 abbiamo messo in piede un'interfaccina grafica fammi ancora mettere a posto il layout della area di testo ok quindi abbiamo questo vediamo solo che se a livello di code abbiamo tutto txt semestre txt log handle cerca perfetto altro non dovrebbe servirmi mi prendo lo scheletro di controller copio torno in Eclipse incollo il controller e rifaccio leggere l'fxml aprendo il file dentro Eclipse ok quindi abbiamo il primo scheletro dentro il main dobbiamo ritoccarlo un attimo con le stesse operazioni che facciamo sempre per poi creare il model quindi noi avremo a questo punto una classe model che si porta dietro degli oggetti con cui rappresentiamo i dati del database allora per pulizia io magari creo due package uno che si chiama .model e uno che si chiama .db package package ah ho messo la virgola a posto il punto per cui dentro il package model ci metterò il modello e tutte le classi oggetto tutti i bings di cui farà uso questi transfer object e mentre dentro la classe db ci metterò i dao e tutti i metodi che hanno tutte le classi che hanno a che fare con il database quindi tengo separati bene anche il livello di package evitando di avere tutte le classi insieme visto che ci sarà tendenzialmente un proliferare poi di classi quindi nella classe model nel package model oltre a creare la nostra classe model ovviamente avremo bisogno di creare delle classi che rappresentino gli oggetti con cui il modello deve lavorare ad esempio il nostro esercizio ci chiede dei corsi e allora dobbiamo creare una classe corso si chiama corso database corso un oggetto corso che rappresenti in java a livello di oggetto il contenuto cioè sia un po' lo specchio del contenuto della tabella corso del database però lo facciamo a livello intuitivo poi più avanti ci daremo delle regole un pochino più formali che siano valide anche nei casi più complicati però l'idea di base è non lavoriamo con questa è una stringa questo è un intero questo è una stringa questo è un intero ma lavoriamo con un oggetto che si chiama corso il quale dentro e che cosa farà? conterrà ovviamente questi valori private string codice insegnamento private int crediti private string nome e private int periodo didattico e da questo oggetto ci faremo definire i vari getter setter per i vari campi tutti ci faremo costruire un costruttore scusate il gioco di parole constructor che prende tutti i campi e crea un nuovo oggetto e definiremo la nozione di uguaglianza facendoci generare hash code equals qual è il criterio per il quale due corsi per noi sono uguali se hanno il codice uguale gli altri campi non ci interessano è sufficiente avere il codice di un corso o di un altro corso per sapere se stiamo parlando dello stesso corso o di due corsi diversi perché sono così sicuro nel dirlo perché il codice di insegnamento è chiave primaria di questa tabella quindi carcasse il mondo o la stazione cinese in questo database non potranno mai esserci due corsi con lo stesso codice e quindi è un'informazione necessaria e sufficiente per identificare se due corsi sono uguali o no e quindi il mio equals lavorerà confrontando il codice di insegnamento con l'altro con il codice di insegnamento dell'altro oggetto così come la tabella funzione hash code di cui domani impareremo a conoscere i benefici e i miracoli però lavora solamente sul codice di insegnamento e non sugli altri dati quindi criterio di uguaglianza allora avendo definito l'oggetto corso cosa ci mettiamo nel modello nel modello ci mettiamo cosa deve gestire questo oggetto un elenco di corsi questo esercizio dovrà gestire un elenco di corsi quindi avrà internamente una lista di corso posso chiamare corsi java.util list corsi allora per implementare il mio problema per risolvere il mio problema cioè darmi l'elenco dei corsi di un certo periodo didattico il modello dovrà offrire al controller un metodo che faccia questo quindi il modello dovrà avere un metodo pubblico che restituisca una lista di corsi chiamiamolo lista corsi semestre che riceve parametro intero che indica il periodo didattico in questo modo il controller chiamerà semplicemente questo metodo tutte le volte che l'utente schiaccia su cerca nel mio metodo avendo il cerca vado a pescare il valore numerico che l'utente ha scritto nella casella di testo e chiamo questo metodo mi restituirà un elenco di oggetti non una stringa un elenco di oggetti che poi dovrò stampare dentro il controller nella casella di testo ci penserà il controller ecco magari visto che sto pensando che qualcuno deve stampare questi oggetti non sarebbe male anche avere un metodo to string dentro il quale per ora possiamo mettere tutto poi si può semplificare per rendere un pochino più leggibile ma la prima implementazione di default già ci può piacere così almeno il controller semplicemente chiamerà il to string del corso per poterlo visualizzare il controller meno sa di come sono fatti gli oggetti del modello meglio è quindi sono gli oggetti che devono sapere di se stessi e come fa a questo punto il modello a rispondere deve chiedere al database quindi a livello algoritmico ci sarebbero due modi mi servirà una classe che possiamo chiamare corso DAO possiamo crearla nel package database lasciamo la vuota per il momento quindi il modello dovrà usare questa classe DAO per fare interrogazioni a livello algoritmico ho due opzioni opzione 1 leggo tutto e filtro io opzione 2 faccio lavorare il database dobbiamo scegliere cioè opzione 1 il database contiene tanti corsi io li leggo tutti indipendentemente dal semestre poi però restituirò il mio chiamante e solamente i corsi che hanno certo semestre e come farò in questo modo beh dirò che dis.corsi uguale DAO punto lista tutti list corsi list all e mi darà un elenco di corsi con un metodo di tipo read dammeli tutti e poi sarò io che dovrò restituire al chiamante una collection che contiene solamente quelli del semestre PD e vabbè pazienza farò list questo risultato uguale new array list e poi scandirò questo while questo risultato che mi è arrivato dal database corso C due punti corsi per ogni risultato non è while for scusate per ogni risultato se C punto get PD uguale PD get come si chiama questo getter uguale uguale PD allora dovrò raggiungere il risultato punto add di C e poi ritorno risultato quindi ho un metodo magico che mi dà sotto forma già di lista di oggetti tutto però questa lista di oggetti è sovrabbondante e me la devo filtrare e con un ciclo estraggo gli elementi li aggiungo in un'altra lista e ritorno il risultato ad esempio poi diventeremo più bravi a fare queste cose ad esempio io qua per abitudine questa lista di tutti l'ho salvata in questa variabile dis.corsi vuoi mai che mi serva mi serva di nuovo se mi serve di nuovo ce l'ho già non devo andare a chiedere il database una seconda volta però questo è un dettaglio e quindi qui abbiamo usato il database come semplice bidone per memorizzare informazioni ma tutto il lavoro banale finché vogliamo ma l'abbiamo fatto noi l'altro modo invece qual è è quello di delegare il database parte del lavoro quindi in questo secondo modo avremmo una risultato due list scusate di corso perché non ho messo risultato due in cui farei una non list all ma è list by pd non int scusate a cui passo già il periodo didattico e ritorno il risultato che mi arriva dal DAO cioè faccio fare già al DAO la costruzione della lista che contiene tutti e soli gli elementi che mi servono e questa dualità ce l'avremo molto spesso dovremmo sempre chiederci ma prendo su tutti i dati poi li elaboro io oppure riesco a far fare elaborazioni già al database qual risulta più conveniente è una domanda che non ha risposta o meglio risposta e dipende 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 da quanto è complicata la query del database dipende da quanto mi interessa l'efficienza dipende dal fatto che io di questo elenco completo dei dati possa averne bisogno comunque per altri motivi il mio istinto è meno codice java scrivo meno errori faccio ok sappiate che le statistiche dicono che i programmatori professionisti quindi quelli bravi non voi o io fanno un errore ogni dieci righe di codice che scritte anche quelli bravi magari il loro errore non è il punto di virgola che manca è qualcosa di piuttosto però c'è quindi meno righe si scrivono meno si sbaglia quindi se c'è un lavoro che posso far fare a un database che è pensato per quello lo faccio fare però dipende perché a volte ci sono alcune query che diventano poi troppo contorte e allora è meglio farle a pezzettini tutte le volte in cui vedo una collection analizzata elemento per elemento mi viene sempre da chiedermi non c'è un modo di farlo a livello un pochino più alto senza prendere le cose in mano una o una però non è detto che sia sempre la soluzione migliore ok allora a questo punto cosa dobbiamo fare dovremmo nel nostro metodo DAO creare questi e implementare questi due metodi che abbiamo fatto finta tranquillamente di chiamare ma che non esistono cioè la nostra classe DAO dovrebbe esserci un metodo list all che non riceve nessun parametro e restituisce una lista di corsi è una classe lista by PD che invece riceve come parametro un periodo didattico restituisce una lista di corsi chiaramente solamente di quel periodo didattico quindi questa prima classe è ritorna tutti gli elementi della tabella corso nel secondo caso invece ritorna i corsi che hanno questo periodo didattico quindi l'italiano non è dei migliori ma concedetemelo e qui dentro facciamo le query dentro questo DAO dovremmo fare le varie interrogazioni ad esempio nel primo caso la query sarà semplicissima dovrò fare un select asterisco ma non mi piace tanto asterisco preferisco metterci i nomi delle colonne from corso perché mettici i nomi delle colonne perché vuoi mai che poi qualcuno editando il database mi scambia due colonne e se io mettero asterisco mi saltano fuori nell'ordine diverso invece le elenco per nome infatti lo sforzo una volta ma io non sono sicuro che nella query si è altino fuori corretta questa è la query che dobbiamo fare io la query la scrivo sempre qua la testo prima per vedere che funzioni prima di scriverla nel codice metterla dentro una stringa e non toccarla più e quindi io dovrò eseguire questa interrogazione dove ricordiamoci sempre dello spazio se dobbiamo andare a capo e qui dentro ci mettiamo al solito il codice JDBC il codice JDBC significa prendi la connessione fai il prepare statement e così via connection con uguale driver manager punto get connection a cui passo una url una JDBC url e questa url magari la mettiamo come costante che in questo caso è JDBC mysql barra barra localhost nome del database e iscritti corsi punto interrogativo user uguale root e commerciale password se avete la password per ora la metto come costante poi impareremo a mettere la connessione in una classe separata perché se avessimo più DAO diversi avere la stessa costante JDBC url in tutti i DAO puzza quindi questo quindi questo ovviamente ha bisogno del suo try catch per essere gestito ma se ho la connessione posso farla qui quindi creo un prepare statement dalla connessione a cui passo la SQL e faccio eseguire in questo caso in prepare statement urlo sempre il prepare statement ormai statement me lo dimentico non ha dei punti interrogativi quindi non devo iniettarci dei valori subito dopo posso eseguire lo statement execute query che mi restituirà un result set da cui potrò poi estrarre i dati estrarre i dati e metterli dove? e mettere dentro una collection che restituirò al chiamante questa collection magari me la definisco prima result uguale new array list di corsi e quindi per ogni risultato del result set while result set punto next prendiamo un elemento e lo aggiungiamo quindi per ogni riga del risultato creo un oggetto corso e il costruttore di corso cosa mi richiede? mi richiede i vari campi quindi il primo è il codice di insegnamento il codice di insegnamento da dove lo prendo? dal result set punto get string della colonna che si chiama codings e io sono contento di avere il nome delle colonne qua perché così sono sicuro di scrivere le giuste poi il secondo parametro il secondo parametro del costruttore mi richiede i crediti quindi dal result set punto get int perché è un intero di crediti result set punto get string il terzo dato che il costruttore vuole è il nome e infine l'ultimo dato bravo non completarmi cose a caso e il quarto dato che il costruttore vuole è un valore intero che corrisponde alla colonna periodo didattico quindi il model voleva una cosa ha chiamato il DAO il DAO si costruisce la query per dargli quel risultato e ottenuta la query estrae i dati li mette dentro oggetti risalta punto add dc e le aggiunge a questa collection e alla fine se tutto è andato bene anziché ritornare null ovviamente ritorna result se invece qualcosa è andato male magari ritorna null e ci penserà poi il model a gestire il problema poi dipende un po' dalla strategia che abbiamo per gestire gli errori ricordiamoci però prima di tornare a casa di chiudere la connessione allora questo schema lo useremo alla nausea model chiamo un metodo del DAO sapendo che il DAO fa tutto quello che serve per avere già una collection un oggetto una lista di oggetti lì dentro mi collego il database faccio le query analizzo il risultato e ritorno un oggetto un insieme di oggetti una collezione di oggetti eccetera e chiudo la connessione questo è il metodo di DAO più semplice che mi sono potuto immaginare questo è roba sporca si lavora a livello di string e a livello di DBC per permettere al model di lavorare invece con oggetti in modo pulito ok se tutto va bene commentando queste due righe dovrebbe già funzionare ma non lo possiamo provare insieme perché il tempo è finito grazie